Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video da MobileFondland. Come molti di voi sapranno, negli scorsi mesi, Wind ha aumentato all'inclusivo di 1,50€. Molto probabilmente il motivo era quello dell'entrata in vigore della legge sullo roaming che, come sapete, dal 15 giugno in Europa si possono usare una parte dei propri gig anche all'estero in Europa, in molti paesi dell'Unione Europea. Quindi questo ha spinto la Wind ad aumentare questi costi. Però oggi non parleremo di questo perché in questo aumento è stata aumentata la velocità di quando finiamo i giga. Quindi se prima era 32 Kbps, che era bassa e non riusciva a fare niente tranne che messaggiare, questa volta con la 128 Kbps invece va molto meglio. È lenta, però si riesce a fare un po' tutto. Vediamo come sarà calma dopo la intro. Eccoci qua davanti al G4 dove ho la mia seconda sim dove ho la connessione ridotta. Adesso non prende tantissimo perché sono dentro casa, però comunque prende sempre l'HSDPA+, quindi connessione abbastanza buona, anche se comunque è ridotta. Quindi come vi dicevo la velocità è stata aumentata, poi ovviamente non è il 4G nemmeno l'HSDPA+, però va molto meglio. Infatti faccio vedere per esempio a caricare un sito internet, qua ho già il corriere, mettiamo modalità desktop e se la ricezione è buona al momento non ci mette tantissimo. Cioè magari ci vuole qualche minuto in più, però comunque è sopportabile. Adesso cerco di fare meno tagli possibili in modo da farvi vedere come se la cava. Comunque vedete sta scorrendo già abbastanza velocemente. Ecco, vedete, ha già caricato quasi tutto, vedete, comunque riusciamo a navigare bene. Vabbè, non aspettiamo il termine perché se no ci vuole troppo. Poi possiamo passare anche a parlare di download, perché dovete sapere che questa ROM che pesa 1,34 GB, si tratta della HROM G4 Nougat e l'ho scaricata tutta con questa velocità. Ci ha messo un giorno e mezzo, ma sono riuscito. Poi sì, è un po' noioso aspettare tutto questo tempo, però comunque ci tenevo a provare questa ROM in vacanza, quindi ho atteso. Comunque ce l'ho fatta, vedete, l'installazione è andata a buon fine, va tutto bene. Anche il Play Store, se la cava, si riescono ad aggiornare e a scaricare le app senza grandi problemi. Anche ci mette un'oretta, ma comunque si riesce ad aggiornare. Adesso vabbè non ho aggiornamenti, però se vi faccio vedere, per esempio, una applicazione qualsiasi, per esempio, questa qui del Kindle, che non dovrebbe pesare tantissimo. Adesso vabbè non sto a farvi vedere tutto lo scaricamento, però comunque se vedete, non è ancora partito proprio il download, però comunque tra qualche secondo inizia e comunque non ci mette tantissimo, magari un'oretta, sì, non è poco, però in caso estremi, estremi rimedi, quindi comunque se... Poi dipende molto dalle volte, a me a volte ci metteva pochissimo a partire proprio, invece adesso ci sta mettendo un po' di più, comunque sarà anche che sono dentro casa, dove la ricezione non è proprio il massimo. Poi un'altra cosa che prima non si riusciva proprio a fare con la velocità ridotta, ecco, vedete, proviamo a partire un video e parte a velocità lenta e a risoluzione bassissima, infatti io li guardavo sempre a 144p, però comunque i video di YouTube si riescono a vedere e sono anche abbastanza veloci, nel senso che il caricamento ci mette qualche secondo, ma alla fine una volta caricato un po' si riesce un po' a fare tutto, vedete, la qualità automatica è a 144p, però comunque guardato su uno schermo magari non grandissimo e non si nota particolarmente, poi magari se avete un tablet o un portatile magari si nota di più, però guardate comunque questo breve video che abbiamo, che dovreste aver già visto, che l'ho caricato quest'estate e vedete, si vede abbastanza bene, vedete, ogni tanto si blocca, però comunque con un po' di pazienza si riescono a vedere molti fatti, in questo modo ho potuto seguire molti miei YouTuber preferiti anche in vacanza. Quindi in conclusione, questa rete a 128kb per secondo non è proprio veloce, però comunque in caso di necessità si riesce a fare un po' tutto, scaricare app, navigare proprio i social network, nessun problema, vi faccio vedere Instagram, che magari nelle storie fa un po' più di fatica, per esempio proviamo a caricare questa storia di Blackjack Tutto, vedete che, ecco, adesso ce l'ha anche fatta caricarla, vedete anche di Snuggle, eccetera, eccetera, vedete adesso ce l'ha anche fatta, forse l'ha già caricato nella cache, però comunque ho usato Instagram senza problemi in questo periodo, anche gli altri social network, insomma si riesce a fare un po' tutto con un po' di pazienza, se siete persone frettolose ve la sconsiglio, magari pagate un po' di più, mettete qualche giga in più, anzi lo consiglio a tutti, però comunque se qualcuno l'ha necessità, comunque vi consiglio questa velocità ridotta. La Windows purtroppo non mi paga, l'ho fatto questo video lo stesso, perché magari può interessarvi, sembra che non ci siano altri video a riguardo su YouTube Italia, iscrivetevi al canale, un bel mi piace se avete apprezzato il video, e noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su Mobile Phone, andiamo da ciao!